Cambiano i marchi, le persone restano. Centro spedizioni, ballaggi, logistica, in via 25 luglio a Cava dei Tirreni. È stato denunciato all'autorità giudiziale, all'ex dipendente comunale VM Le Sue Iniziali, che ieri mattina ha aggredito violentemente il dirigente del settore affari generali e finanziari del comune di Cava dei Tirreni, Francesco Sorrentino. Il fatto è avvenuto poco dopo mezzogiorno. A quanto pare, l'uomo, collocato a riposo dal novembre dello scorso anno, deve lasciare l'immobile di proprietà comunale dove vive attualmente, poiché impegnato come custode dell'asilo nido di via Francesco Carillo. Per questo motivo, dopo aver avuto parere negativo ad un'ulteriore proroga, prima di trovare una nuova collocazione, ieri mattina si è recato a Palazzo di Città per incontrare il dirigente Francesco Sorrentino. L'uomo, secondo alcuni testimoni, ha fatto irruzione nell'ufficio del dirigente, al secondo piano del Palazzo di Città, mentre era in corso una riunione con alcuni dipendenti comunali, cominciando ad inveire in maniera violenta contro il dirigente Sorrentino, colpendolo ripetutamente con calci e pugni. L'episodio si è consumato sotto lo sguardo attonito di altri dipendenti, che hanno prontamente cercato di strappare il dirigente Sorrentino dalla furia dell'uomo, che si è poi immediatamente dato alla fuga facendo perdere le sue tracce. Sul posto, per prestare le prime cure del caso a Sorrentino, sono intervenuti i sanitari del 118 che, con l'ambulanza, hanno preceduto a trasportare il dirigente comunale al pronto soccorso del Santa Maria dell'Olmo, dove è stato refertato. Allertati gli agenti del commissariato di Cava dei Tirreni, nel giro di qualche ora, i poliziotti diretti dal vicequestore in Macconcia hanno rintracciato il 67enne ex dipendente comunale che è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Per il gesto inconsulto ed ingiustificabile, che si è verificato ieri mattina al Comune, il sindaco Vincenzo Servalli ha espresso tutta la sua solidarietà al dirigente Francesco Sorrentino. Stessa solidarietà è giunta anche dai consiglieri di minoranza Barbuti e Senatore, i quali hanno chiesto all'Emte di adottare tutti i provvedimenti necessari contro l'autore del gesto nelle sedi opportune, compresi i danni d'immagine per il Comune.